Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Dictator 2 Quindi ragazzi ho fatto un calcolo e nell'episodio precedente la situazione è andata anche se abbiamo conquistato la Tarzania Era andata, sposto le cuffie, era andata parecchia puttane per noi Infatti dal calcolo che avevo fatto eravamo diremmo tipo I soldi ci bastavano soltanto per altri 4 turni E qui ci avevamo delle situazioni politiche di merda che ragazzi non duravamo Quindi sono stato costretto a fare nuova partita Perché veramente conosco il gioco Sono andato puttane quando ero sicuro che in realtà dasse tutto bene anni fa Quando ci giocavo tempo fa Quindi potete stare tranquilli, lì non si durava Ora, rifacciamo sempre la solita routine Quindi ci potenziamo il petrolio qua che ci aumenta i soldi Qui ora costa troppo E per andare in positivo ci compriamo la banca che ci dà degli interessi del 5% Ora anche del 10% ma direi che è meglio stare fermi Ora torniamo Andiamo a vedere Ora noi Io dal calcolo che ho fatto ho notato che le nazioni più forti per quanto riguarda la battaglia Per quanto riguarda le carte da mettere in battaglia Sono la polizia, l'opposizione e l'esercito L'esercito c'ha alcune carte forti però tuttavia ne puoi mettere poche perché costano di più Quindi la polizia è più utile più che altro perché si possono spammare i rex Che sono tipo pastori tedeschi Che però sono molto buoni, costano poco e sono buoni Qui ora loro ci chiedono Che poi ho capito ragazzi, è tutta una pippa mentale assurda Mettere fumetti Di ideologia with Eh ma dai ma è impossibile, non ci capisco quasi niente di queste robe qua Ok Esercito, ok Bene, ricordiamoci che ci abbiamo Ci abbiamo l'oligarchia e l'opposizione che ci è andata giù di uno E anche il popolo Cazzo Quindi Ora io direi che sarebbe meglio parlare con Sarebbe molto meglio parlare con Che parliamo? Con l'esercito dai Perché se abbiamo buoni rapporti con una ma anche con più di una di queste nazioni Fazioni qua sotto fazioni Avremo un sacco di soldi Avremo un sacco di soldi extra ragazzi diciamo Quindi Come dire creare Creare nuovi posti Cioè come dire Nuove Nuove basi nucleari Io direi di no Perché se no veramente il popolo ci va giù con una meraviglia Infatti guardate Sono saliti tutti Compreso la polizia Ma l'esercito è andato giù Bene Ora cerchiamo di Qualsiasi roba la polizia ci chiede Anche se è tipo Cazzate dobbiamo dirgli di sì Condurre Esercitazioni per riuscire a disperdere meglio I protestanti I guidatori di bua Beh in ogni caso Il popolo va giù Eh sì E anche l'opposizione lo sapevo Cavolo però la polizia è messa quasi bene Ma ora direi che Che è messo peggio L'opposizione è messa molto male Quindi Opposizione e popolo bisogna tirarcele su Tra poco si attacca ragazzi Quindi Popolo popolo Meglio popolo Vabbè io dico di sì Perché tanto non Se diciamo di no ci va a puttana la situazione Ok Ma come il popolo è andato giù Cavolo E ora paura che il popolo ci vada giù Ma non importa quindi Permettere alle persone di essere Imprigionate senza un verdetto Porca troia Quanto quanto mi va giù il popolo Eh infatti Però ora tra poco riusciamo ad avere I nostri primi casi della polizia ragazzi Si paga Qualsiasi cosa sia paga Noi potremmo anche riuscire con le buone A mandare sul popolo Facendo le scelte con le altre nazioni Però tuttavia non possiamo permettere Cioè come dire Si risca tanto Quindi è meglio pagare in questo caso Ah qui invece noi ci abbiamo tipo Dei soldi aggiuntivi Però tuttavia sono come dire Eh non gli uso per le partite Che faccio con voi ragazzi Perché veramente non Sarebbe barare Tipo sono robe mezza scioppine Che ci danno dei soldi nel tempo Però insomma dai Non è bello Non è bello Che non è più hardcore poi Nell'ultimo turno abbiamo perso 295 monete Ora diciamo sia la polizia Qualsiasi cosa che ci chieda Ecco che Ora vedete Con la polizia Noi adesso abbiamo persino Più uno di Abbiamo quella stellina in più E quindi abbiamo un incasso di 20.000 Bene mi piace Ora Noi il popolo Aspettate un attimo Ce l'abbiamo giù di quanto Di due Quindi se noi Non è un problema questo Io quindi dico Parliamo un attimo con l'opposizione E qualsiasi cosa vogliono Proibire Ecco noi diciamo di si Così facendo Ecco qua Polizia vai giù Ma almeno il popolo va su Trovo imprevedibile Questo gioco ragazzi Ora parliamo Eh no Perché ho paura che L'oligarchia Se diciamo lì no L'oligarchia Di solito il popolo va su Ho notato Quindi Permette agli studenti Deliti di andare All'academy in elicottero Noi gli diciamo lì no E ora il popolo va su E abbiamo rimesso la situazione bene Però ora c'è andata giù Così l'opposizione Cioè Vabbè che la mafia Anche loro Cioè la mafia È come un'oligarchia Solo illegale Ma che cazzo Tra poco attacchiamo ragazzi Sì quindi esercito Dico io Che non parliamo quasi mai Con l'esercito Aprire un'accademia Per No 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 Ho già capito che succede Vediamo se ci va su Bene bene Ci siamo riusciti ragazzi Praticamente abbiamo Una situazione Che è calma quasi È quasi calma Guardate Ma sono giocata benissimo Adesso Ora inizia l'invasione Che con le carte che abbiamo Dovremmo riuscirci Quindi Rex 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 Ok Già così ragazzi Ci abbiamo 1,2,3,4,5 Rex Ragazzi Che Rex vero Ti chiami Rex Sì Rex Che fanno veramente Sono buoni Ora Eh però C'abbiamo l'esercito Che fa schifo Questo qui è inutile Ragazzi È È inutile Ma è l'unico Che possiamo farci Un lumberjack Di cui io Siamo a posto Due signor smith Un green guy No anzi no Meglio farci Due anonymous Con la mafia Ci facciamo invece Un punitore Non so se ci riusciamo A dire il vero Vabbè proviamoci Comunque Ok Quindi La nostra vita Ragazzi La vita Del nostro dittatore Più siamo messi Meglio con i rapporti Con tutte le nazioni Cioè Se abbiamo ottimi rapporti Con tutti quanti Diciamo ragazzi Avremo più vita Lo dico intanto Schieriamoci Un Rex Che palle Ora dico Schieriamoci Un Questo 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 ciccione qua Ok Io dico ora Un punitore Che Ok bene E ora Quindi qui c'è un problema Sto qua C'ha lo scudo Quindi ci permette Di In primo colpo Lui non subisce danni Quindi cavolo Potremmo usare Per far danni A quell'altro Vabbè dettaglio Ah sto qui Ah no Siamo così Di attaccare sto qua Perché ci aveva Provocazione E mandiamo Quest'altro lupo Qui al massacro Contro un camion Cavolo C'hanno il green guy Cavolo C'hanno Pastore Ci Dà tutta la vita Tutte No ma dai Sono forti Sti qua Qui intanto Gli attacchiamo Il pastore E sto qua C5 d'attacco Non lo possiamo usare Quindi evochiamo L'anonymous C'ha carta più forte Lui però Qual è la tua Abilità speciale Prende il controllo Da una carta nemica Casuale Eh ma dai Spamiamo un po' Di Rex Signor Smith Ragazzi Ok Fermiamoci così Perché a volte Alcune carte Nell'abilità speciale Di distruggere Ogni carta nemica Sul campo di battaglia Quindi Questa cosa qui È veramente forte Quindi saltiamo il turno Mi sa che ramicano Loro queste ragazzi Quindi Attacchiamo 3 E E 3 Bene Ora evochiamo Un'anonymous E un altro Rex E passiamo Il turno Cavolo Ci stanno seccando Il dittatore E Chi è sto qua Invece Mi sembra L'ingegnere Di team fortress Da tutte le mie creature Più 2 di vita Ok Mi dispiace Andare a morire Tu muori E 3 di attacco 3 di vita E tu muori Bene Cavolo Non riusciamo A fare neanche Se le reclutiamo Tutte le nostre soldate Diciamo ragazzi Porca troia E il carro armato Ma dai Mondo merda Abbiamo perso Ragazzi Quindi forse Ora loro Ci attaccano No Non ci attaccano Eh Ci è andata giù La mafia Perché abbiamo perso Quindi Parliamo con L'opposizione No dai ragazzi La partita è andata A puttane Mi fermo qui Ragazzi Che siamo già No Anzi No vado avanti Un altro po' Ragazzi Quindi Ordinare la polizia Di aumentare La sicurezza No Gli diciamo di no Perché abbiamo bisogno Di farci amica La polizia Ok Più 20.000 Dalla polizia Si è messi bene E però Ci siamo anche Datti su con la mafia Mi piace Sta cosa qui Ora Noi quindi Parliamo con Il popolo E qualsiasi cosa Voglia Diciamo di sì Perché penso che Di solito Il popolo è sempre collegato Eh vedete infatti Che ci è andato Più 1 L'esercito Bene Meno 2 L'origarchia Ma l'origarchia Non me ne frega niente E ora Ci abbiamo Un'ultima Fettazione Abbastanza pericolosa Che è Quella lì Dell'opposizione Provo a dire Di sì Alla polizia Che se no A caso mai pago Perché veramente Otteniamo Bene 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 L'esercito Andato su E' andato su Tutto quanto Ragazzi Tranne l'origarchia Ora però Ci facciamo Veramente Cominciamo A sempre A farci più soldi L'opposizione È andata giù Io dico Parlo con il popolo E gli dico di sì Perché generalmente Popolo e opposizione Sono collegati Proibire Agli studenti Di andare Nell'esercito Io dico di sì Però l'esercito E mafia Sono andati giù Compreso l'origarchia Però in compenso La polizia È andata su ancora Che ci fa fare 68 mila Di soldi Al mensilmente Ora io dico Diciamo Un'ultima volta Sì alla polizia Così facendo Ogni altra Nazione È andata Di fare In culo Però ci abbiamo 89 mila euro Al mese Che qua Al mese Cioè Che qua Siamo messi bene Intanto Noi Paghiamo L'origarchia Poi andiamo A capo Paghiamo La mafia Ora qui Ci abbiamo Una ribellione Quindi ci stanno Intaccando Ah io Questa roba qui Non ho ancora Capito come funziona Ragazzi Paghiamo Dieci No Difendo il regime Ragazzi Iniziamo Prima noi I baci Della Tanzania Che potremmo Riuscirci Cavolo Arrivata gente In casa Guardate Quante Che poi Tutte le altre Carte della polizia Ragazzi Sono inutili Quindi non vale La pena L'esercito Rivolta Quindi non possiamo Farci niente Il popolo Ci abbiamo S'ha messi bene Col popolo Quindi Due lamberge Che vanno bene Due taglialegna No 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 Meglio una macchina Adorata L'opposizione Messa male E un punitore Cavolo No il punitore Che fa due di danno Ognuno di loro E poi Spamiamo L'auto Per distruggere L'oro Fugoncino Il cecchino Dannazione Ok Con le carte Ci fermiamo Qui per ora E che cavolo Quindi intanto Gli distruggiamo Il cecchino E il loro Cambio Il corazzato Ed evochiamo Il nostro taglialegna Sta qui Una carta forte E possiamo Fa due di danno Ogni No vabbè Che è fattibile Ancora ancora Il carro armato Quindi Questa cosa qua Lo sciuttiamo Sul colpo Bene E' duro Distruggere Un Ok bene Sto qua E' scarso E quindi Sto qua E' inutile Ragazzi Quindi dico che Diamo priorità Distruggere Il carro armato Nemico Ed evochiamo Ogni altra carta Sul campo di battaglia Sperando che ci vada bene Quindi nelle loro carte Ci hanno praticamente Uno di attacco Tranne sta qui Che giustamente Ehm Non riusciamo a ucciderlo Ragazzi Perché Cavolo E' fottuto pareccio Dai abbiamo vinto Sì abbiamo vinto Abbiamo finito In parità Ma abbiamo vinto Ottieni Ricompensa Ok Grazie a Dio Siamo andati in positivo Ragazzi Ora io qui Non so proprio Che devo fare Per difendere il regime In ogni caso Abbiamo anche Conquistato La Tarzania E Vabbè ragazzi Il gameplay Finisce qua Ditemi se vi è piaciuto Grazie a Dio